Paola, voglio la foto dopo. Ma noi siamo pronti che siamo... Viene giusto stamattina, se non vi è da Paola, bloccatela. Poi siete di No Con Bud? Sì. Sì, sì. Sì, avete in quella via io. Ma che sta parlando con me? Io faccio un piccaciglia. Sì, non so, ma non so, ma non so. Lo sai che sto abituata con me. Ho giusto un passo? Come vai stanno sopra con me, sono lei. Mi faccio la sita? Ivan! Ivan! Ma ma tu mi hai fatto, io non ce la faccio mai. Ti dico una situazione. Io e Sergio abbiamo iniziato a ridere. No, no, io non ce la faccio. E io non ce la faccio. Fa che che abbiamo fatto un passo. Che senso? Ciao! 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 Ciao, 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 Grazie a tutti.